da dove nasce il nostro passione di proteggere la bellezza italiana che può sembrare strano però è il mondo si sviluppa va avanti tramite delle competizioni in ogni sfera della società studi seri mostrano che l'italia è l'unico paese al mondo che ha la più alta percentualità della variazione genetica lo so che vi siete sorpresi cari amici è vero non è america e non esiste in questo contesto questa variazione ha cominciato a aumentare circa 2500 anni fa nel periodo dell'impero romano l'impero romano raccoglieva tutte le etnie del mondo tutte le etnie degli tre continenti a roma e i più bravi sopra hanno sopravvissuto però quelli che hanno sopravvissuto di più sono sicuramente gli liri perché chiunque sa un po di storia erano circa 29 imperatori liri che hanno governato roma in questo contesto anche noi ci sentiamo un po italiani qui nasce la nostra passione di proteggere questa bellezza che è unica in tutto il mondo non si può ripetere una storia di millenni a noi sembra come una missione nobile e sacra è per questo che oggi sono qua a scalio milano per toccare i grandi brand da vicino per vedere i loro cuori e la loro passione perché non non è a caso che ogni grande brand cresca cresca con molta difficoltà con grandi sacrifici e quindi la nostra passione è nata per proteggere la bellezza perché ci sentiamo italiani per dare il nostro meglio che questa cosa unica nel mondo andrà avanti andrà sempre avanti perché come già sapete la bellezza attiva i sensi i sensi umani fanno che una coppia uomo dono si attirano a causa della bellezza così portiamo la vita avanti per questo pensiamo che una missione nobile e sacra e noi diamo il nostro contributo con cuore e grande passione venite in albania a proteggere la vostra benezza italiana abbiamo raccolto tutte le più buone esperienze in tutta europa specialmente italia per darti il cuore la passione ciao